bella a tutti siamo quelli della porta accanto e stiamo qui su Outlast e siamo un macello di gente cominciamo a presentarci in senso orario diciamo perché no quel tipo è ariele l'avete visto nel secondo video ciao si si l'hanno visto quello che parla di quei sedi c'è lui che è andrea e giocherò a Outlast perché diciamo che è quello che si caga meno sotto non buona la partenza poi c'è lui che è lorenzo e l'avete visto nel primo guidare in un modo sconcio da vari come niente poi qui abbiamo un tipo che ha chiesto di farsi chiamare nick non so perché io sono lorenzo e mi avete visto in tutti i video questo qui dietro è folle il folle e quello lì dietro invece tra un po' se ne devo andare però è già un tipo non ci vuole un esperto in fifa e speriamo avventura e si capiamo anche la strada abbiamo anche la crostata fatta dalla madre del signor lorenzo guardiamo signori vai 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 normale normale non fa le folle no perché non finisce che morimo big spear perfetto l'altra scontiene sceni di violenza ma no ma io sono pronto ad abbandonarti nel giro di sottotitoli mettiamo i sottotitoli si metterò i sottotitoli ok non posso mettere i sottotitoli ora dai che ce la vuoi fare lo sai dai io me magno un pezzo di crostata anche arrivati il pvr se vi interessa ma tanto non vi interessa ma tanto non vi interessa anche perché non lo siamo sottotitoli è arrivato quando non è nelle nostre mani non è nelle nostre mani ma sappiamo per certo che sta nelle vicinanze il commissario del no allora siamo in un auto ci stiamo dirigendo verso un castello ben castello allora santa è matto perfetto scendiamo molto a delicatezza oltretutto chiudila chiudere che bel panorama da una parte hai visto che è bello da una parte di soli e dall'altra cestà nei fulmini per tramonto un dipinto di van gogh e poi chiudere da solo sto più più dentro la gente siamo male non cominciati parlo a c'è detto stai zitto quello voleva entrare su facebook scavalla andresca bene iniziamo la nostra strippata da ora perché non c'è un cazzo di un giro a me la volta bravo andrei no perché piano piano in dolore rega perfetto questa silenzio è molto rassicurante non ci sta nessuno allora forse mandano non da più di fulmini oddio è meglio essere assaliti da un mostro ma è passato hai visto è passato era non lo so una merda che camminava tu non dire queste cose ok questa lingua non si dicono le malacce vediamo una volta facciamo la lingua no non lasciarla aperta che così c'è una via di fulmini no 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 a noi ci piace stare in chiusi bene bene si facciamola un po' più continuiamo perfetto molto rassicurante qualcuno c'è sangue c'è sangue e dei prendi con la leggenda di nesta di qualcuno ha il ciclo chiamato serpisco perfetto oh mio dio un computer qualcuno ha dimenticato l'assorbente guarda puoi entrare su facebook vedi da vero? accedi accedi no assurdo no va bene ma ci stanno david circa se c'è qualcosa tipo un incassietti o roba del genere io mi scappa una pianta ho trovato una pianta entra 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 noi l'abbiamo assurto e chiuso poste sshhhh ah no ragazzi quanto ci siamo cagli oh oh ecco il documento ecco il documento perfetto zitti tutti qua sshhhh continuano a chiedere va bene cerchio vabbè non mi guarda non so adesso ahhh sta accendo questa vacca c'è una donna non ti fanno vabbè perchè ti è sul bagno vabbè perchè ti è sul bagno vabbè vai io so direi per di lì vai 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 no che dico è un gambero aspetta ti c'è di lavarti le mani però no no perchè non può non lo fare si sta cagando sotto ragazzi no via giustamente tutti si cagano sotto no ci andiamo ragazzi ma io entro là dentro ma non possono passare dentro penso ma come va ecco la no loro non possono passare mai loro che loro che oh porca droia sei andato a prendere la carta igienica sei rascolto sei rascolto sei rascolto non aveva fatto qualcosa con gente allora ho la sensazione che tra un po' succederà qualcosa che non ci viene si shhh 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 ma si visitiamoci ehhh ma no ma caschi do me forse salvataggio non hai dovremmo andare devi entrare il pastello no oh no oh no chissu Murica è un pezzo che già lo sapevo e io vedo che viene tagliata di bonus eh allora qui ci hai gente appesa con i miei città ok no sta rascicando ma ha la testa ma ho la cosa come lo pioce no fai il tipo ha letteralmente perso la testa no 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 però c'è un tipo infitto un altro allora c'hanno vizio qua secondo me è caraviro l'hanno impalato aspetta i titoli voi che ci avete già giocato sapete non abbiamo fatto solo qualche mission in cina voglio dire che io questa cacassotta aperta le cose che vi ricordate non eserano ma non ti mettere agli angoli voglio dire che io la prima volta che c'è il gioco quindi state per poi ma non è la prima volta l'hanno ammazzato no aspetta un pesone ci ha appena affiondato di sotto di un piano ma era un panzone era un po' più di un piano vabbè sia quello che sia chi c'è? metto un arabo è il gioco di prinsolvenzi è il coso? come si chiama? professor salle oh purello quello è morto no però non ho capito perchè non corra però no ma poi mi penso che poi te la spieghi ma io penso che 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 fai? entri 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 in questo corridoio oh oh che cazzo è una fiera? tu ma indietro lentamente è un amico chiuditi nel bagno ciclo rosso eeeh morcellino ciclo no oddio che bello che cosa non va bene hai una stanza apposta per un circo no no non la fai oh ma che è? è morto mentre stava a cacare no la cosa qua ha fatto una cacata e si è spappolato tutto vabbè no era troppo potente la prescrizione oddio c'è entrato tutto prendi la mano è scaricato dentro ma questa è una testa è una testa quando ti dicono che c'è tutto dentro al bagno come no? ce l'hanno proprio piantato stava a guardare i programmi di spassatura di Sky e gli è esplosa la testa è la giusta posizione ma perché aspettate ma se muori? no si si se può muori abbiamo visto abbastanza santo ci manca se non muori scusa eh ci manca